Sì, grazie Massimo con il tecnico del Teramo perché io riprendo da dove ci eravamo lasciati in Coppa Italia, ovvero con una evidente organizzazione della sua squadra, uscita fuori negli ultimi 20-25 minuti, mettendo in difficoltà un Pescara che invece per la prima parte aveva messo a voi in difficoltà. Sì, è stata una partita come hai analizzato giustamente, il primo tempo ha fatto meglio di noi il Pescara, anche se il gol è venuto su un episodio dove siamo stati ingenui perché ha fatto un fallo di mano su un cross anche lento e quindi magari lo potevamo prendere in un'altra occasione ma non in quella maniera, a pochi minuti dal termine del primo tempo, però facevamo fatica nel primo tempo ad accorciare e andare a prendere la palla al Pescara che la muoveva molto velocemente e quindi stava giocando bene ed era in vantaggio. Nel secondo tempo penso invece che l'inerzia è stata dalla nostra parte, stavamo spingendo, avevamo già creato anche presupposti per pareggiare sugli sviluppi di un calcio d'angolo dove abbiamo colpito il palo e penso che poi in quei minuti là il pareggio sia stato meritato. Diciamo che nell'economia della partita penso il risultato sia giusto visto che ci siamo gestiti un tempo a testa. Cosa ha detto negli spogliatoi? Bernardotto ha detto ci siamo parlati perché ho visto a Rigoni e soprattutto Mungo più alti, ho visto una squadra che andava ad occupare meglio l'area di rigore rispetto al primo tempo dove invece non riuscivate a superare la metà a campo anche se Bernardotto è andato vicino al gol in apertura. Sì, negli spogliatoi è chiaro, era evidente che vedevo i miei un po' troppo frenati, un po' troppo pochi coraggiosi anche quando riuscivamo a saltare la prima pressione degli avversari molto spesso tornavamo indietro invece di andare a occupare spazi più avanti. E quello è sinonimo un po' di ansia, di poco coraggio che non mi era piaciuto. Poi nel secondo tempo invece siamo andati molto meglio e non a caso abbiamo alzato il baricentro netta. Negli ultimi minuti avevo visto in difficoltà il Pescara e avevamo deciso di togliere un punto di riferimento ai due difensori centrali, ho accentrato più e alzato più Mungo e allargato un po' Bernardotto e Birligea con un difensore in più. Praticamente ci siamo messi con i tre dietro in maniera tale che Aziosmanovic e Lombardo erano in doppia ampiezza contemporanea visto che poi loro avevano Memushai e Clemenza che sono più bravi sui corridoi centrali, un po' da tre quartisti piuttosto che a rincorrere sugli esterni. Quindi penso che siamo stati anche fortunati perché è stato un cambio che ha portato un risultato, un giovamento.